e buonasera e in questa lezione non particolarmente lunga vedremo due aspetti che abbiamo lasciato in sospeso della gestione del database che adesso con un pochino di esperienza in più e avendo incappato in qualche problematica anche pratica non potremo anche apprezzare meglio il primo aspetto è legato alla costruzione delle classi di appoggio su cui il DAO e il model ci scambiano informazioni e il secondo aspetto è legato all'efficienza della gestione delle connessioni quindi partiamo dal primo di questi due aspetti che è quello che prende il nome qua tradizionalmente di object relational mapping. Di che cosa si tratta? Allora il problema che dobbiamo affrontare è quello di capire come conciliare la struttura delle tabelle di una base di dati con gli oggetti java che dovremmo rappresentarli. Quindi noi siamo abituati a dire beh ogni volta che devo leggere dei dati da una tabella mi costruirò un insieme di oggetti java che ripercorrono esattamente la struttura della tabella. Questo nei casi semplici è molto facile se una tabella con un intero una stringa e una data costruire un oggetto che contiene quei tre campi ma diventa un pochino più complicato quando cominciamo avere dei database con più tabelle e soprattutto quando queste tabelle sono collegate tra di loro con delle relazioni con delle bicchiere esterne eccetera eccetera e quindi cercheremo di darci delle regole che ci aiutano a costruire le classi in un modo sistematico, in un modo deterministico. Questa tecnica si chiama appunto di object relational mapping perché fa un ponte, un mapping, una corrispondenza tra il mondo a oggetti dell'oggetto di programmi, quindi oggetti java e il mondo relazionale che è quello del mondo di database. Sono due mondi che pensano in un modo completamente diverso, noi cercheremo in qualche modo di tenerli insieme costruendo questo tipo di traduzione in un certo senso che data una tabella ci permette di decidere come costruire questi oggetti così diventerà per noi un'operazione più meccanica che avrà magari il difetto di essere un pochino noiosa perché stiamo applicando delle regole ma avrà vantaggio di non porre più dei problemi o dei grattacapi. Questa sigla ORM di object relational mapping è utatissima e ci sono anche in giro molte librerie che fanno proprio questo lavoro per noi quindi costruiscono in automatico le classi andando a ispezionare la struttura della tabella di un database. Noi non arriveremo a tanto, non ci servirà ovviamente costruire, utilizzare questo tipo di ambienti di librerie ma l'applicheremo a mano a questo tipo di concetti. quindi quali sono le regole che cerchiamo di seguire? Allora la regola di base è che ogni tabella del database normalmente viene convertita in un oggetto java, quelli che avevamo chiamato javabings oppure oggetti java semplici pojo plain old java object oppure anche dto data transfer objects che era la terminologia derivata dal pattern dao alla fine di questo stiamo parlando semplicissimi oggetti java che lavorano come contenitori di dati oggetti che hanno tendenzialmente quasi nessuna logica al loro interno quindi solamente i metodi di accesso ai dati stessi quindi andiamo prendiamo un database analizziamo le tabelle presenti in questo database e prego la numero uno creiamo una classe java per ciascuna entità principale del database attenzione non per ciascuna tabella ma per ciascuna entità principale in una tabella del database infatti noi sappiamo arrivando dalla progettazione entità relazioni da un modello entità relazioni che quando poi convertiamo il modello r in tabelle ci saranno alcune tabelle che rappresentano l'entità alcune tabelle che rappresentano le relazioni oppure alcune colonne all'interno delle tabelle che rappresentano relazioni nel caso di relazioni uno a molti allora le tabelle che abbiamo introdotto al fine di rappresentare delle relazioni di per sé sarebbero molto difficili o scomode da rappresentare come un oggetto java perché non saprei che significato attribuire alla relazione che di fatto una tabellina che normalmente contiene le due le due chiavi esterne che guardano a sinistra destra verso le due tabelle che appunto vengono messe in relazione e quindi questo tipo di oggetti non li traduciamo quindi andiamo a selezionare nel database quelle che sono le tabelle che rappresentano dei dati veri e propri che rappresentano delle entità provenienti dal modello r saltiamo invece ignoriamo per il momento le tabelle che abbiamo dovuto aggiungere per poter memorizzare le relazioni nm molti e molti che invece tratteremo con delle regole diverse con delle regole particolari dopodiché il nome della classe il nome della classe se non siamo masochisti lo rendiamo uguale al nome della tabella del database quindi se abbiamo una tabella che si chiama user creeremo o una tabella che si chiama utente creeremo una classe java che si chiamerà user o che si chiamerà utente normalmente si suggerisce che il nome della classe java sia un nome declinato al singolare se io ho una classe che si chiama user mi ricorda che quella memorizzerà i dati di un singolo utente se questa classe si chiamasse users molto probabilmente immaginerei che questa classe contenga una collection di utenti creando poi confusione nel codice noi dobbiamo poi riuscire ad allinearci alle convenzioni della programmazione java per poter avere del codice utile e comodo da usare quindi anche se per caso le tabelle del database avessero un nome diciamo così declinato al plurale noi nella classe java la decliniamo al singolare ma anche nella cassa delle tabelle del database è suggerito comunque di usare la forma singolare dopodiché questa classe, gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo identificata avrà una certa serie di proprietà allora una proprietà per ciascuna colonna nella tabella quindi la tabella ha quattro colonne e allora noi creeremo una classe java che ha quattro proprietà private proprietà private che ovviamente dovranno corrispondere il più possibile in termini di nome e in termini di tipo di dati qui bisognerà aggiustare un pochino le cose perché normalmente in SQL è un linguaggio che è casing sensitive quindi non fa attenzione a maiuscole e minuscole e molto spesso i nomi lunghi vengono separati da un underscore che invece nel mondo java tendenzialmente non si usa nel mondo java per le proprietà si usa la formulazione a camel case quindi parole tutte scritte in minuscolo con l'iniziale minuscola perché le proprietà per convenzione in java iniziano con lettere minuscola e le lettere maiuscole per separare le varie parole quindi facciamo una traduzione del nome della colonna del database in un attributo che diciamo così somigli meglio a una variabile java e questa variabile la definiremo con il tipo di dato più opportuno adesso poi faremo anche un ragionamento sul tipo di dato ma chiaramente se la tabella è integer la mappiamo su un int oppure su un integer java se la tabella fosse una data la mapperemo sul tipo di data più opportuno se la tabella fosse un var char o un text lo mappiamo ovviamente sul tipo di dato string quindi creiamo una variabile in java che sia in grado di accomodare al proprio interno il tipo di dato che è contenuto in quella tabella in questa operazione di nuovo dimentichiamo le colonne che sono usate come chiavi esterne quindi noi per ora rappresentiamo i dati quindi le tabelle che memorizzano le entità e i campi che rappresentano i campi di dati che rappresentano le proprietà di questa entità le relazioni sia non essere relazioni nm quindi rappresentate con una tabella a parte sia non essere relazioni 1 1 o 1 n quindi rappresentate con una chiave esterna le lasciamo per dopo ok allora abbiamo una classe abbiamo dato un nome abbiamo definito le proprietà di questa classe ovviamente la classe per essere completa deve avere i suoi metodi di servizio quindi il costruttore il costruttore tipicamente costruiremo un oggetto usando tutti i campi tutte le proprietà pubbliche cioè tutte le proprietà private quindi tutti i campi della tabella in modo che data una riga del database data una riga del database io prendo quella riga e costruisco un oggetto che contiene esattamente quei campi di quella riga quindi cerchiamo sempre di mantenere una corrispondenza tra quelli che sono i dati rappresentati nel mondo relazionale nella tabella e i dati che sono rappresentati nel mondo oggetti ovviamente visto che nel passo precedente i campi che contenevano chiavi esterne li abbiamo saltati li abbiamo messi anche qua nel costruttore di solito non vengono inseriti a questo perché? ma per un motivo relativamente semplice se io ho una tabella che fa riferimento a un'altra il dato corrispondente a una riga di questa tabella di per sé non è completo se non ho la conoscenza anche dei dati che sono contenuti nell'altra tabella questo in caso del database non è un grosso problema faccio una join e metto tutto insieme nel caso invece di un oggetto java io creo un oggetto e questo oggetto al suo interno avrà una data, un interno, una stringa e poi avrà un riferimento, un id un id della tabella correlata quell'id lì da solo non mi dice nulla e tra l'altro è un numero che sarebbe anche scomodo da gestire o un rappresentativo, un identificativo testuale che sarebbe scomodo da gestire una volta che ho l'identificativo da lì non riesco, non esiste un'operazione di join in java quindi non riesco ad andare a ripescare all'interno di un'altra classe quali siano i dati correlati allora in realtà il modo che vedremo sarà di fare in modo che questo campo non sia non rappresenti, non contenga l'identificativo, la chiave primaria ma contenga direttamente un riferimento all'oggetto dall'altra parte ma per avere un riferimento all'oggetto dall'altra parte devo creare il secondo oggetto prima di creare il primo e quindi rischierei di dover creare tutta una serie di oggetti a cascata per poter creare il primo e questo a volte magari dovrei creare degli oggetti che non mi servono, mi rallenta il programma inutilmente e mi fa fare del lavoro inutile allora la tecnica che si adotta è quella della cosiddetta creazione lazy degli oggetti non creazione pigra degli oggetti io creo un oggetto e ci metto dentro i campi che mi sono comodi che mi è comodo estrarre immediatamente se ci sono dei campi delle informazioni legate a quell'oggetto che non sono comode perché stanno dentro un oggetto collegato e quindi dovrei fare una join e questa join va a prendersi un altro oggetto devo crearlo eccetera non lo faccio quindi avrò un oggetto che è inizializzato solo parzialmente so che alcuni campi di questo oggetto dovrò inizializzarli in un secondo momento perché quando ho creato l'oggetto ero pigro e non ho voluto definire gli attributi che non erano immediati da ottenere non erano immediati vuol dire non erano nella stessa tabella in cui c'erano gli altri dati quindi su questo ci torniamo un attimo su come ovviamente poi dobbiamo riuscire a mappare queste relazioni come facciamo lo vediamo tra un secondo per ora diciamo che non inizializziamo tutto insieme l'oggetto poi ovviamente per ogni proprietà di queste che abbiamo definito aggiungeremo i soliti metodi get set e poi per avere un oggetto che funziona correttamente dobbiamo definire equals hashcode e con che criterio definiamo l'equals e di conseguenza l'hashcode per questo oggetto lo definiamo tenendo conto di quale sia la chiave primaria della tabella cioè a livello di database io so che la chiave primaria mi vincola il fatto che due righe diverse devono avere valori diversi della chiave primaria del campo o dei campi che compongono la chiave primaria quindi io sono sicuro che non ci saranno mai due oggetti che hanno la stessa chiave viceversa se mi trovo due volte la stessa chiave vuol dire che di sicuro è lo stesso oggetto quindi il concetto di uguaglianza tra due righe di una tabella è dato essenzialmente dall'uguaglianza dei campi che compongono la chiave primaria allora se noi vogliamo che i concetti di uguaglianza che trasferiamo in Java sia compatibili con quello che trasferiamo nel database in modo da poter dire l'oggetto c'è o non c'è allora sia che faccia una query sia che vada a interrogare collection Java io voglio che la risposta sia la stessa per sapere se l'oggetto c'è o non c'è e quindi il criterio di identificazione dell'oggetto deve essere lo stesso quindi se nel mondo del database un attributo o una coppia di attributi a volte capita compongono la chiave primaria di una tabella allora quegli attributi lì dovranno comporre l'argomento delle funzioni equals e hash code quindi equals e hash code devono lavorare sui campi che compongono la chiave primaria questo ci permette di non avere sorprese gli oggetti duplicate da una parte che invece sono incompatibili dall'altra o viceversa e queste sono le regole facili sono le regole che permettono di creare l'oggetto con i suoi campi nel caso in cui questo oggetto non abbia delle relazioni con altri oggetti abbiamo finito lì quando abbiamo delle relazioni e vabbè allora dovremo rappresentarli con attributi aggiuntivi negli oggetti ci accorgeremo tra un attimo quando vedremo le regole che non è semplicissimo gestire e creare le relazioni in java mentre nel caso del database le relazioni sono l'essenza della presentazione dei dati e sono navigabili facilmente nel senso che tu dichiari i dati lo schema dei dati in un modo dichiarativo appunto e poi ci penserà l'ottimizzatore del database a trovare il dato correlato semplicemente quando tu specifichi che vuoi fare un'operazione di join in java non c'è nulla di automatico da questo punto di vista e quindi sarò io che dovrò da un oggetto capire quali sono quelli correlati seguire i riferimenti organizzare in collection e così via quindi la regola che ci diamo è facciamo attenzione è pesante dal punto di vista del programmatore è pesante rappresentare tutte le relazioni e quindi non rappresentiamo tutte chiediamoci quali ci servono e rappresentiamo solamente queste quindi la prima cosa è mentre rappresentare tutte le entità come classe di java è facile rappresentare tutte le relazioni è sicuramente possibile ma probabilmente è sovrabbondante rispetto alle necessità che abbiamo ne rappresentiamo solamente alcune che sono quelle che serviranno al nostro model essenzialmente poi se ci accorgeremo che dovremmo aggiungere qualcuna siamo sempre in tempo a farlo però partiamo in modo incrementale rappresentando solamente con le regole che vediamo tra un secondo rappresentiamo solamente le relazioni che ci interessano e come? aggiungendo degli attributi gli attributi che però sono progettati diversamente in funzione del tipo di relazione le relazioni più semplici sono le relazioni che hanno cardinalità pari massima pari a 1 vuol dire che per un determinato oggetto questo è messo in relazione con una istanza di un oggetto di un altro tipo allora noi questo è il caso più semplice chiaramente decidiamo che nell'oggetto java memorizziamo un attributo che contenga il riferimento all'altro oggetto correlato non il valore della sua chiave qui è diverso rispetto a quanto facciamo col database vabbè poi qui c'è il suggerimento di dire usiamo visto che la cardinalità è 1 usiamo i nomi declinati al singolare ma cerchiamo di capirlo meglio con un esempio pensiamo di avere due classi studente e persona e ad esempio uno studente ha il campo matricola che è la sua chiave primaria e la persona invece rappresentata come con un codice fiscale allora nel momento in cui uno studente è anche una persona chiaramente posso collegare lo studente con una persona con una chiave esterna quindi un attributo all'interno di studente che rappresenta la persona oppure posso anche rappresentare che una persona nel caso in cui sia studente ha una relazione di chiave esterna che lo collega allo studente allora nel mondo del database questa chiave esterna foreign key persona che cos'è? beh altro non è che un campo di testo che contiene il codice fiscale nel caso di uno studente della persona scusate la chiave esterna foreign key studenti che cos'è? non è altro che un campo intero che contiene la matricola il numero di matricola cioè noi nel database costruiamo le relazioni avendo degli attributi di una classe che contengono il valore della chiave primaria dell'altra classe dell'altra tabella quindi l'associazione avviene per valore questa persona è collegata a questo studente perché il codice fiscale cioè chiave primaria di questa persona è uguale alla foreign key all'attributo che rappresenta la relazione che sta dentro la classe studente infatti quando noi scriviamo la condizione di join scriviamo studente virgola persona where fk persona uguale codice fiscale c'è proprio quest'uguaglianza di valori che crea la relazione questa uguaglianza di valori poi il database è intelligente non va a fare i veri confronti ma si memorizza al suo interno quelli che sono già i collegamenti diretti ma a livello concettuale invece lo manteniamo con un'uguaglianza di valori se noi facessimo la stessa cosa a livello di java sarebbe uno spreco di risorse immaginiamo di definire la classe studente che avrà ovviamente la sua matricola dentro eccetera e un attributo di tipo codice fiscale possiamo farlo chiaramente è anche facile da leggere perché basta leggere questo valore qua fk persona e questo qua ovviamente contiene il codice fiscale di una persona e allora me lo memorizzo qua dentro ma nel momento in cui ho un'istanza di uno studente e voglio sapere qual è la persona quindi attributi della persona corrispondente dell'oggetto tipo persona corrispondente come faccio a partire del codice fiscale e dovrei prendere probabilmente avrò da qualche parte una list che contiene tutte le persone oppure un hash map che contiene tutte le persone e devo andare a cercare lì all'interno qual è l'elemento che ha quel codice fiscale quindi ogni volta che devo passare da una classe a una classe correlata dovrei fare un'azione di ricerca all'interno di una collection una ricerca che è inutile perché potrei direttamente memorizzare anziché il codice fiscale il riferimento all'oggetto persona e allora a questo punto ogni volta che ho un'istanza della classe studente se voglio conoscere l'istanza della classe persona corrispondente semplicemente scriverò s di studente punto persona anzi get persona perché avremo il metodo di getter e mi dà già direttamente l'oggetto non devo ricercarlo ogni volta capite la differenza se io ho un valore devo ricordarmi come programmatore di cercare qual è quell'oggetto che ha quel valore specifico in quel campo se invece ho già riferimento all'oggetto quando mi serve l'oggetto ci vado direttamente quindi quando creerò un'istanza della classe studente allora magari nel momento della creazione vado a fare la ricerca di qual è l'oggetto persona che è collegato ma una volta che l'ho fatto in fase di creazione non ci penso più quindi il concetto di relazione in un oggetto java è concretizzato attraverso avere un attributo del tipo dell'altra classe e che quindi fa riferimento a un oggetto di quella classe è la stessa cosa al contrario nel senso che se io ho un oggetto di tipo persona e questo lo voglio collegare allo studente corrispondente lo collegherò attraverso un attributo di tipo studente e non di tipo intero come matricola questa cosa in SQL non esiste perché in SQL io non posso avere questo attributo è una stringa non è una persona e questo attributo studente è un intero non è un oggetto di tipo studente cioè i tipi delle colonne sono predefiniti mentre noi in Java i tipi delle colonne sono oggetti e quindi possiamo capire e memorizzare esattamente l'oggetto a cui stiamo puntando l'altro dettaglio lo vedremo meglio poi con le relazioni molteplici è che una relazione tra due tabelle è automaticamente bidirezionale nel database perché nel momento in cui io scrivo where fk persona uguale codice fiscale è questo uguale simmetrico io la posso leggere in un senso o nell'altro nella relazione quindi quella stessa join mi permette di passare da uno studente a una persona o passare da una persona a uno studente sfruttando la stessa relazione invece in Java io ho un riferimento che va dalla classe A alla classe B ma potrei non avere riferimento che va dalla classe B alla classe A questo per dire che a volte mentre il database una volta che è strutturato si può navigare indifferentemente in tutte le direzioni un insieme di oggetti le posso navigare solamente attraversando gli attributi che ho definito io e quindi se non ho definito certe relazioni tornare indietro potrebbe essere difficile questo lo vediamo meglio adesso che passiamo alle relazioni di cardinalità multipla una relazione di cardinalità multipla è una relazione nella quale tu hai un oggetto che contiene un valore e molti oggetti di un'altra tabella e molte righe di un'altra tabella contengono sono mappate sullo stesso valore sul stesso elemento allora in questo caso come database è semplice perché basta che gli altri oggetti contengono quel valore che è uguale alla tua chiave primaria e tutti questi altri oggetti che hanno quel valore uguale alla tua chiave primaria saranno collegati automaticamente a te in java è un pochino più complesso perché vuol dire che io dato un oggetto devo sapere quali e quanti altri oggetti sono collegati a me quindi questo attributo che mi permette da un oggetto di passare tutti quelli collegati sarà un attributo di tipo insiemistico una collection può essere un insieme può essere una lista qualche cosa che mi permette di mettere in relazione un oggetto con molti oggetti allora in questo caso creeremo un attributo di tipo collection di tipo set tipicamente o list se ci interessano a mantenere l'ordine e ovviamente l'oggetto dovrà avere dei metodi per leggere scrivere aggiungere cancellare da questa lista di nuovo la lista conterrà oggetti e non conterrà i valori numerici o stringa testuali della chiave primaria vediamo un esempio reazione 1n 1n vuol dire che abbiamo uno studente e una città quindi lo studente è residente in una città quindi lo studente è residente in una città ma la città contiene molti studenti come lo rappresentiamo in un database questa è una relazione 1-molti una città molti studenti e allora mettiamo nel lato molti la chiave esterna che punta al lato 1 quindi la città avrà un suo codice che sarà usato come chiave primaria e dentro ogni studente mettiamo non ovviamente il nome della città ma il codice della città la riferimento alla chiave primaria della città questa è una relazione chiaramente 1-molti perché dato uno studente ho una e una sola città di residenza data la città la città vedete che non ha informazioni sullo studente però può essere diciamo così target destinazione di molte chiavi esterne di molti studenti diversi quindi non c'è nessun vincolo e nessuna conoscenza esplicita di quali siano di quanti siano gli studenti che vivono in quella città ad esempio quindi in qualche modo non c'è nessuna informazione esplicita sul fatto che da città si possa passare a studente cioè questo campo chiave esterna quando faccio le join mi permette come dicevamo prima di passare dallo studente alla la singola città in cui abita oppure di passare dalla città agli agli gli plurale studenti che abitano in quella città lì per quanto riguarda invece Java noi se ci servono entrambe le direzioni le dobbiamo rappresentare entrambe esplicitamente allora da studente a città è facile lo sappiamo già fare perché stiamo andando in una direzione in cui la molteplicità è unica è una sola quindi dato lo studente c'è una sola città e allora per rappresentare questo nella classe studente metteremo un attributo città che contiene il riferimento all'oggetto città di residenza viceversa se io ho l'oggetto città e dall'oggetto città voglio permettere di tornare agli studenti che abitano in quella città ho due possibilità o non faccio nulla e mi vado a fare una scansione di tutti gli oggetti di studente chiedendo per ciascuno sentimi la tua città di residenza per caso è questa e quindi faccio una lunga iterazione per cercare qual è il sotto insieme di studenti che ha questo attributo città di residenza uguale a questa città qui ovviamente si può fare una volta ma non non è particolarmente efficiente se lo devo fare molte volte oppure è più efficiente creare all'interno della classe città una collection di oggetti studente quindi dentro la classe città terrò il riferimento a una lista di oggetti di tipo studente che ovviamente sono questi sono questi di quella collection che sono in relazione con quella specifica città qui c'è un lavoro doppio io dentro la classe studente devo memorizzare la città di residenza e dentro la classe città devo rappresentare gli studenti residenti e devo essere bravo devo fare attenzione perché devo evitare che lo studente tal dei tale abbia come città di residenza Roma e nella città di Roma in realtà quello studente lì non ci sia perché per sbaglio quello studente è stato agganciato alla città di Napoli e quindi questa è la stessa informazione che stiamo rappresentando in due posti diversi in modo frammentato e quindi diventa nostra responsabilità quella di riuscire a garantire che le informazioni siano allineate a differenza del database dove grazie all'operazione di normalizzazione non a caso quando facciamo i database impariamo le forme normali ogni informazione è scritta solamente in un punto e quindi non c'è questo rischio di avere informazione spezzata in più attributi che poi devono essere tenuti allineati altrimenti il programma comincia a non capire più quali sono i dati che sta rappresentando e ovviamente poi c'è il caso complicato che è quello delle relazioni N-A-M dove ho immaginiamo di avere tanti articoli scritti da tanti autori che qui sono chiamati creator e ovviamente un articolo può essere scritto a più nomi quindi può avere molti creatori e un autore può avere scritto si spera nella sua vita anche molti articoli allora questo a livello di database lo rappresentiamo ovviamente a livello di entità relazione abbiamo un'entità articolo un'entità autore e una relazione molti a molti che le lega quando questa con la progettazione logica prendiamo questo modello di entità relazioni e lo mappiamo in tabelle e beh quello che otteniamo sarà una tabella intermedia che rappresenta le relazioni chiamiamola qua authorship ad esempio la tabella relazione intermedia che è una tabella classica che contiene le chiavi esterne delle due tabelle che sta mettendo in relazione quindi questa tabella di fatto non contiene quasi nessuna informazione aggiuntiva se non la chiave esterna dell'articolo o la chiave esterna del creatore quindi avremo una tabella che contiene tutti gli articoli una tabella che contiene tutti gli autori e poi una tabella authorship che collega gli articoli agli autori questo è il modo normale di realizzare le razioni nm nei database qui c'è una nota la nota dice che questa tabella authorship a seconda di come la realizziamo potrebbe avere come chiave primaria un campo suo che però tipicamente è un campo numerico che si incrementa solo che non ha nessun significato generale semplicemente il numero d'ordine dell'istanza di questa relazione oppure sarebbe più pulito che la chiave primaria di questa relazione fosse la combinazione di queste due chiavi primarie quindi una chiave primaria composta quindi per questo abbiamo l'opzione 1 asterisco cioè la chiave primaria di questa tabella è composta dalle due chiavi esterne oppure l'opzione cancelletto in cui la chiave primaria è un campo in più aggiuntivo quindi in questo caso la rappresentazione in SQL è particolarmente pesante perché oltre le due tabelle da mettere in relazione abbiamo anche la tabella intermedia e se volessimo trasformare in Java a questo punto si applica il ragionamento di prima se io ho un articolo e di questo articolo voglio conoscere gli autori all'interno dell'oggetto articolo dovrò avere una collection di oggetti creatore e dato un oggetto creatore se voglio conoscere quali sono gli articoli che è scritto all'interno dell'oggetto creatore dovrò avere una collection che elenca tutti gli articoli e di nuovo questa informazione la sto rappresentando due volte una per il verso da sinistra verso destra e l'altro per il verso da destra verso sinistra quindi in qualche modo di nuovo devo mantenere allineate le due rappresentazioni dall'altro c'è un vantaggio nel senso che non ho una classe in più mentre qui avevo tra tabelle una, due e quella intermedia qui non ho delle tabelle in più queste sono le tabelle che all'inizio abbiamo detto non creiamo ricordate la prima regola torno indietro di qualche slide che diceva qua che diceva non creiamo delle classi se la tabella che stiamo considerando è usata solamente per creare delle relazioni nm e qui esattamente vediamo l'esempio in cui eccola qua in cui avevamo una tabella authorship che era puramente una tabella di relazione metteva in relazione article con creator e infatti noi non abbiamo una classe authorship qua dentro non ci serve ci complicherebbe solo la vita semplicemente questa authorship serve per dirmi da un articolo quali sono i suoi creator e questo ce l'ho in questa collection oppure se la navigo al contrario da un creator mi dice quali sono i suoi article ma questo ce l'ho in questa collection queste due collection ovviamente vanno popolate per ogni singolo articolo per ogni singolo autore e mantenute aggiornate perché se per caso cancello un articolo dovrò aggiornare la lista di tutti gli autori che l'hanno scritto e viceversa quindi è un po' di nuovo pesante da gestire mentre invece a livello di database essendo normalizzato l'informazione non crea particolari problemi di gestione o di aggiornamento quindi la differenza o meglio se vogliamo la novità a cui dobbiamo fare attenzione quando vogliamo rappresentare una relazione è quella di cercare di usare il più possibile riferimento e oggetti anziché dei valori facciamo un esempio semplice quello della città di residenza dove dal codice della città supponiamo che sia un numero intero facciamo finta che ogni città abbia un codice numerico intero che la rappresenta allora la cosa più semplice che potremmo fare in java potrebbe essere dire vabbè allora all'interno della classe studente mi scrivo il numero intero che rappresenta la città di residenza è un numero e quel numero ce l'ho scritto nella tabella del database mi costa zero leggerlo e memorizzarlo quindi è facilissimo il problema è che poi quando voglio avere i dati della città io ho solamente l'id e quindi da lì non posso sapere qual è il nome della città la sua provincia la sua popolazione le sue coordinate geografiche tutte le altre informazioni che mi possono interessare sulla città ho l'id e l'unico modo che ho per passare dall'id a tutte le informazioni su quella città è fare una query nel database chiedere al database oppure avere una struttura dati che mi tengo in memoria in cui ho queste informazioni questa struttura dati dovrà essere ottimizzata per le query per l'id conoscendo l'id quindi tipicamente sarà una mappa però è facile da leggere la memorizzo non ci penso e quando mi serve attraversare quella relazione quindi attraversare la relazione significa passare dallo studente alla città corrispondente mi costa mi costa una query tipicamente viceversa se io faccio come abbiamo consigliato prima nelle regolette che abbiamo visto insieme questa città di residenza non la memorizzo salvandomi il suo numero identificativo ma cerco di creare un oggetto di tipo città e puntare direttamente quell'oggetto allora vuol dire che quando creo un oggetto di tipo studente devo avere devo avere già e se quell'oggetto di tipo città non ce l'ho non ce l'avessi ancora lo devo creare lo devo creare per fare in modo che lo studente poi possa puntare a quell'oggetto città beh vuol dire che tipicamente ce l'avrò già quindi prima mi leggo le lingue delle città mi costruisco una bella lista di città e poi quando creo uno studente vado a collegare a fare questo collegamento quindi la prima volta farò un'operazione di look up di ricerca ma poi ce l'ho salvo quindi tutte le volte che devo leggere un nuovo studente dovrò fare un po' di operazioni in più devo andare a fare una join oppure fare due query leggo il dato al studente guardo vedere qual è il numero della città faccio un'altra query che da quel numerino mi dia i dati della città però e quindi leggere l'elenco di studenti è un pochino più pesante perché leggere l'elenco di studenti significa leggere l'elenco di tutti gli studenti e anche di tutte le città in cui abitano perché mi servono i dati della città per poterle collegare lo studente per poter creare l'oggetto che viene collegato allo studente però una volta fatto questo lavoro che è un lavoro pesante di caricamento poi ho tutti i dati e quindi da quel momento in avanti ho tutto già in memoria tutto ciò che mi serve e non devo più fare nessuno sforzo aggiuntivo per recuperare questi dati in un secondo momento questa è un'operazione che viene chiamata di caricamento eager cioè desideroso di arrivare alla fine il contrario di lazy che era pigro perché fa tutto subito fa tutto subito per avere meno problemi dopo per non avere problemi dopo il problema ovviamente è che c'è il rischio che facciamo del lavoro inutile perché carichiamo tutto subito poi magari il dato sulla città del 98% dei studenti non mi serve e allora ho fatto il lavoro di caricamento che poi era inutile ci sono queste due diciamo così grossi estremi da un lato mi memorizzo solamente il riferimento e quando mi serve il dato lo vado a leggere dall'altro tutte le volte che vedo un riferimento mi vado subito a prendere il dato creo l'oggetto e mi aggancio all'oggetto poi c'è la terza via che lo metto qua in mezzo perché è una terza via intermedia che dice ma io mi predispongo per avere un riferimento all'oggetto che è quello che mi dà una facilità di lettura di look up eccetera ma questa cosa qua la inizializzo a null quindi memorizzo creo un oggetto che è solo parzialmente inizializzato dove non c'è questo 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 riferimento non c'è ancora quindi ci sarà solamente non so l'id numerico della città e quindi ho la stessa facilità di lettura di questo nel senso che io memorizzo l'id come intero da qualche parte e poi ho un campo città che lascio null lascio non inizializzato poi però la prima volta che mi serve questa città di residenza l'id ce l'ho e quindi ho veramente dovevo fare una chiamata al database per avere l'oggetto città ma una volta che ce l'ho non lo butto via non lo dimentico non lo salvo qui e quindi avrò degli oggetti studente che inizialmente partono tutti con l'id città valido e col campo città residenza nullo poi man mano che prendo un studente e mi interessa sapere qualche cosa sulla sua città di residenza vado a fare un query per recuperare i dati di quella città e li memorizzo dentro lo studente e quindi a un certo punto avrò alcuni studenti di cui ho l'oggetto città corrispondente collegato e altri studenti invece di cui non ce l'avrò e questo ci vogliamo una via di mezzo che è un pochino più complicata da gestire perché ogni volta che accedo a quel campo devo prima chiedermi ma è nullo o non è nullo l'ho già letto non l'ho ancora letto però una volta che l'ho fatto diciamo così sono sicuro di fare solamente le query che mi servono non ne spreco e in fase di caricamento non devo perdere troppo tempo a caricare tutti i dati dietro in mezzo ovviamente a queste tre alternative ce ne sono diciamo così centinaia di altre o combinazioni di queste perché questo naturalmente poi lo faccio su ogni singolo attributo di ogni singola classe era solamente per evidenziare che ogni volta che c'è una relazione tra più tabelle in un database ci sono dei problemi di rappresentazione che dobbiamo di volta in volta decidere nelle nostre classi java e poi c'è un altro problema sempre legato alla differenza tra l'identità data dai valori e l'identità data dai riferimenti quindi l'identità data dai valori del database e l'identità data dai riferimenti degli oggetti che è proprio un problema di identità immaginiamo di avere un metodo di questo genere cioè dammi un metodo del DAO che mi carica tutti gli articoli mi carica tutti gli autori di un determinato articolo quindi io ho un articolo una lista di articoli per ciascun articolo ha chiamo un metodo del DAO e mi da gli autori e quindi per questo determinato articolo ha set creators gli autori quindi qui siamo in questo esempio torniamo indietro in cui ho l'oggetto articolo e l'oggetto articolo contiene al suo interno una collection creators vabbè banale no? cosa farà la get creators la get creators dentro farà la sua query per un metodo del DAO farà la query a un certo punto la query dirà dammi tutti gli autori di quell'articolo e nell'analizzare nel ciclare sul risultato della query creerà degli oggetti creator prendendo ovviamente tutti i vari campi l'ID del creatore il nome il cognome la data di nascita eccetera eccetera e si truerà una collection fatta di oggetti creator adesso il problema è qual è? il problema è che se un autore ha scritto più articoli questo autore comparirà nella lista creators di 2 3 4 5 articoli è lo stesso autore ma se l'ho implementato così questo autore sarà rappresentato da oggetti distinti cioè se l'articolo 1 2 3 hanno tutti in comune un autore io avrò quindi l'articolo 1 ha un autore l'articolo 2 ha lo stesso autore l'articolo 3 ha lo stesso autore ancora quando lo implemento così io in realtà avrò l'articolo 1 che costruisce un oggetto creator l'articolo 2 che costruisce un altro oggetto creator identico al primo ma diverso perché ho fatto un'altra new ho costruito un altro oggetto e l'articolo 3 scusate che avrà un altro oggetto creator perché l'ha fatto anche lui un'altra new che ha i campi valori esattamente uguali ai primi due quindi avremo tre oggetti creator tutti e tre identici che essendo identici sulla base del criterio equals e del criterio hashcode ovviamente perché abbiamo lavorato con la chiave primaria sono in grado di riconoscere che sono lo stesso che sono lo stesso autore però l'ho creato tre volte allora vuol dire che io avrò nella mia data nella mia programma java molti oggetti identici perché li ho creati più volte ho dei problemi ad avere tanti oggetti identici sì e no beh per quanto riguarda l'uguaglianza non è un grosso problema perché equals cscode lavorano sulla chiave primaria e quindi mi diranno se quei due oggetti rappresentano lo stesso autore oppure no sicuramente è uno spreco di memoria perché quell'autore lì che potevo rappresentare una volta sola l'ho rappresentata tre volte e ovviamente devo fare attenzione che io dovrò sempre usare equals e mai uguale per confrontare due oggetti perché il nostro autore 1 e la coppia dell'autore 1 e l'altra coppia dell'autore 1 non sono uguali nel senso di uguaglianza dell'operatore java sono solamente uguali nel senso di equals ma non uguale uguale perché i riferimenti sono oggetti distinti in zone di memoria diverse oggetti distinti identici ma sono comunque sempre distinti quindi c'è un rischio anche a volte di sbagliare a usare l'operatore di confronto l'altro problema è che io se io aggiungessi delle informazioni aggiuntive che non sono presenti nel database ma magari mi servono il mio algoritmo che diceva questo oggetto è già stato preso o non è stato preso nella ricorsione ad esempio quindi avessi degli attributi in più su questi oggetti e allora se io ho tre volte lo stesso autore e ci aggiungo un attributo che dice questo autore è già stato preso vorrei che questo attributo fosse su tutti questi oggetti e se ne ho quindi se ne ho uno solo non è un problema metto quell'attributo e tutti lo vedono ma se invece avessi tre oggetti identici non posso modificare uno e sperare che la modifica sia visibile anche sull'altro che poverino è un oggetto che vive di vita sua e che non può condividere la stessa proprietà questo è un po' astratto come punto adesso ma quando poi faremo i grafi vedremo come funziona la libreria sui grafi questo sarà un problema abbastanza concreto quando dovremo salvare delle informazioni nei nodi quindi ricordiamocelo allora come facciamo di nuovo a prendere due piccioni con una fava cioè io voglio ovviamente fare una cosa di questo genere quindi avere una lista di oggetti autore per ogni articolo ma voglio fare in modo che questa lista sia fatta di oggetti ogni qualvolta l'autore sia lo stesso io voglio che nella lista venga inserito lo stesso identico oggetto che quindi ho creato una volta sola cioè voglio evitare di creare due volte oggetti identici quando posso riusare un oggetto che ho già e chi è che mi fa questa magia? le mappe una mappa che ogni volta che creo un nuovo oggetto salvo in una mappa aggiuntiva una copia di quell'oggetto indicizzata come chiave con la chiave primaria dell'oggetto stesso e quindi ogni volta che sto per creare un oggetto quindi questa new qua mi dico aspetta guardiamo se questo oggetto ce l'ho già prendo l'ID controllo nella mappa se nella mappa c'è già prendo l'oggetto della mappa e restituisco l'oggetto della mappa senza fare new se invece nella mappa l'oggetto non c'è ancora bene lo creo lo aggiungo la mappa e poi lo restituisco in questo modo sono sicuro di fare new una sola volta per ogni oggetto devo fare attenzione ovviamente di ricordarmi sempre ogni volta che sto per creare un oggetto di fare questo ragionamento controllo la mappa se c'è già va bene usa quello altrimenti creano un nuovo e due di fare in modo che la mappa lavori esattamente come chiavi sulla stessa chiave primaria dell'oggetto e quindi della tabella del database quindi questo è un pattern abbastanza utilizzato lo chiamiamo identity map quindi una mappa usata per mantenere l'identità degli oggetti quindi ogni volta che io voglio cercare un tipo di oggetto che è nel database prima di tutto quindi quando qualcuno mi dice dammi questo oggetto io il mio metodo questo finder è l'oggetto del DAO essenzialmente prima di tutto dice senti ma cara identity map c'è già per caso questo oggetto l'oggetto 1 ce l'hai già? allora ci sono due possibilità se l'oggetto c'è già me lo sostituisce se l'oggetto non c'è allora vai a chiedere il database fai effettivamente la query oppure ottieni i dati usa i dati che arrivano dal database quindi c'è sempre un livello precedente che va a chiedersi se quell'elemento per caso ce l'abbiamo già questo da un lato sembra anche un elemento di efficienza perché io non vado a fare una query o un accesso al database quando in realtà l'informazione ce l'ho già sicuramente ha anche un impatto positivo sull'efficienza ma soprattutto ha un impatto positivo sull'identità degli oggetti infatti non la chiamiamo cache ha anche la funzione di caching nel senso che si mette in mezzo e salva i dati già utilizzati già noti ma soprattutto lo usiamo per avere un'identità ci siamo sicuri che nessun oggetto duplicato verrà mai creato e quindi di ogni oggetto ce n'è esattamente un'istanza sola possiamo anche confrontarlo con l'uguale questa identity map appunto è una mappa che spesso la chiamiamo idmap quindi che sarà studente idmap città idmap eccetera eccetera che è un oggetto che contiene al suo interno una mappa che ha come chiave la chiave il campo o i campi della tabella che costituiscono la chiave primaria e come valore l'intera tabella quindi sarà studente idmap che contiene integer perché lo studente ha come chiave primaria la matricola che è un numero intero virgola studente mappa la matricola sullo studente data una matricola il get su questa mappa mi dà l'oggetto studente corrispondente in un tempo costante o di uno in termini di complessità perché le mappe sappiamo che lavorando sulle funzioni di esce garantiscono un tempo di accesso medio costante e quindi non dipende non cresce col crescere della dimensione della tabella e quindi è un'operazione che consideriamo istantanea che consideriamo praticamente atomica come accedere ad un array e quindi quando usiamo questo metodo possiamo aggiungere diciamo così nel nostro modello per ogni lista di studenti un idmap studente per ogni lista di città un idmap città per ogni lista di articolo un idmap articolo e così via ovviamente per quel tipo di classe di cui ci interessa fare questo lavoro non prendiamolo come legge mettiamo l'idmap per tutto perché sono belle sì sì per carità ci danno dei vantaggi ma questi vantaggi d'altra parte ci richiedono di scrivere il codice in più quindi può valere la pena può non valere la pena dipende sempre valutiamolo sempre ecco io a volte vedo gli studenti che si appassionano a questo pattern qui perché effettivamente è molto utile evita molti problemi dopo e loro lo implementano ovunque anche dove in realtà non serve perché tanto l'oggetto lo legge una volta sola quindi valutiamo sempre il pro e il contro in ogni decisione di progetto c'è sempre un pro e un contro allora nel caso in cui sia decidiamo di usarlo semplicemente creiamo questo idmap in parallelo alla collection di oggetti che ci servono e ovviamente il metodo DAO dovrà avere tutte le volte un riferimento al suo idmap e al dmap corrispondente all'oggetto che sta cercando in modo che il DAO tutte le volte che fa una query prima di ritornare un oggetto prima di creare un nuovo oggetto controlla nella mappa e come dicevamo prima se c'è già lo restituisce se non c'è ancora allora lo può creare se vogliamo addirittura potremo in alcune volte evitare addirittura di fare la query perché magari già la mappa contiene la risposta se per caso avessimo già fatto in presidenza la stessa query magari abbiamo già proprio la risposta già scritta nella mappa e non c'è bisogno di farla query questo non è detto che avvenga sempre dipende dai casi quindi come di nuovo come abbiamo già visto più volte l'operazione pericolosa in Java è la new è la creazione di nuovi oggetti stiamo in un certo senso cercando sempre di bypassarlo quando abbiamo visto le pattern factory che soprattutto che era usato molto in JDBC abbiamo visto ma noi non facciamo new perché non sappiamo che classe creare perché la classe dipende dinamicamente da quale tipo di database e allora usiamo un metodo terzo che mi crea lui la classe sapendo lui qual è la classe mentre è solamente l'interfaccia implementata e quindi in tutto JDBC non si fa mai una volta new proprio perché sono sempre factory che ci danno gli oggetti che ci servono adesso abbiamo detto cerchiamo di evitare attraverso le mappe in particolare le identity map le mappe usate in questo modo cerchiamo di creare oggetti identici quindi ci siamo fatti il mazzo a studiare bene equals come funzionano per poi poter dire ma cerchiamo di evitare che due oggetti diversi siano equals tra di loro due oggetti java distinti rappresentano la stessa informazione questo perché ovviamente non è vietato il linguaggio java lo supporta bene ma ci dà poi problemi poi nella gestione dei dati stessi e quindi lo preveniamo quindi creare più oggetti con la creazione di nuovo oggetto è ovviamente è l'operazione che ci stiamo accorgendo più delicata di tutta la programmazione la creazione e poi la mutazione dell'oggetto quando aggiungiamo e modifichiamo i dati soprattutto quando modifichiamo un dato se l'oggetto è unico sono sicuro di modificarlo in un punto solo se l'oggetto è stato replicato in tre coppie identiche andare a modificare un dato diventa un'operazione molto rischiosa perché rischio di modificarlo in alcune coppie e non nelle altre e questo chiaramente crea poi una fonte di Bucky in cui dice ma io ce l'ho messo quel dato e non lo trovo più ecco perché lo hai messo in una copia e lo stai andando a leggere dall'altra copia detto così sembra che dica ma sei cretino fare così in realtà ci accorgeremo che è molto più facile di quanto non pensiamo proprio perché molte volte l'oggetto non lo stiamo creando noi ce lo sta creando qualcun altro e quindi l'oggetto che ha creato è identico al nostro ma non è esattamente lo stesso nella stessa istanza ok quindi andiamo così quando ci approcciamo così a costruire dei DAO per dei database un pochino complessi ricordiamoci di questi criteri sia dell'esistenza delle ID map che possiamo utilizzare sia soprattutto della gestione delle relazioni per degli attributi per gestire per memorizzare le relazioni molti a molti quindi queste sono regolette generali che applicheremo quando andremo ad approcciare dei database un pochino più complessi dei database semplicini con un paio di tabelle che abbiamo visto finora e qua chiudo diciamo così questo argomento grazie a tutti